buonasera a tutti i ragazzi e ragazze giovani uomini donne di tutta l'età come vedete sono in pieno trasloco vedete qui alle mie spalle qua dietro qua dietro sono incasenatissimo ho fatto quattro giorni sotto l'acqua perché pioveva traslocando spostando cose da casa la discarica buttando via un sacco di roba perché è una casa molto grande adesso una casa diciamo normale e quindi tante cose dovute eliminare è così sotto tanto tempo fuori sotto la pioggia la pioggia dentro fuori casa dentro fuori casa la voce di te ce n'è andata quindi non riesco a fare video in questo momento non ho ancora la linea infatti sto andando con lo spot mi stanno domani probabilmente metteranno su una linea non è una fibra è una qualcosa altro per il paese piccolo ma arriva lo stesso qualcosa che probabilmente riusciremo a saperire il problema e quindi andare bene ugualmente volevo avvisarvi che ovviamente fino a ieri sono riuscito a portare video perché avevo stato precedentemente qualcosa sia di football anche di altri contenuti cosa stanno portando se non mi ricordo più neanche io ho messo qualcosa di fifa ho fatto un qualcosa di city bus manager construction simulator fallout sono qualcosa che ho registrato e questi giorni sono riuscito postandone uno giorno già memorizzati quindi sono direttamente andati in onda da oggi però non ho più video non ho neanche la voce non posso fare non sono linea quindi non posso mettere su niente quindi vi chiedo di per un po di presenza per qualche giorno magari guardatevi qualche video vecchio cercate magari qualcosa nei meandri delle miei playlist magari qualcosa che vi interessa lo trovate non so c'è tutta la serie fallout tutta la serie tutta la serie numerica non è più ragazzi questo momento perdonarti mi sono stato confusionale oggi sono anche andato al lavoro ma tra l'altro sluoco e poi ancora cosa andrà a prendere quindi ragazzi niente faccio questo brevissimo preamelo questo brevissimo video solamente per dirvi che non sono scappato non sono cucito con tutti i soldi su youtube sono ancora qua e aspetto che mi sistemino un po le varie cose in casa alla linea sono anche senza caso che si parla organo senza forno quindi devo mangiare cose così fatte almeno peggio se la pizza per dire ma mi piace non è un problema buon raga io vi ringrazio per essere sempre presente visto anche questi giorni qualche abbonamento che è aumentato non è qualche abbonamento di qualche iscritto sotto al fagliando trafugliando qualche iscritto di aumentato le visualizzazioni sono arrivate ugualmente anche se non ero presente a controllare intanto devo commenti quindi cerchiamo subito di dare le risposte ringrazio sempre tutti gli iscritti ragazzi ringrazio gli iscritti ringrazio chi lascia i commenti chi lascia i like e che guarda anche il video per un secondo tutto mi sembra qua non è scappato via ragazzi lo trovate prestissimo appena tutto si sistema appena quel bordello qua dietro le spalle sarà sistemato metterò tutto in ordine qua sopra la mia ps5 la ps4 ci metteremo un po tutto quanto ci avremo di continuare a portare qualcosa che so che vi piace che so che vi fa divertire niente adesso tuffo mix si mangia la pizza perché tra poco sarà per arrivare io vi saluto vi ringrazio per la pazienza che mi date questi giorni perché purtroppo anche volendo se avessi una linea potente con una voce così ragazzi dopo dici minuti di video non parlo più quindi evitiamo non vorrei stare male di più cercherò di curarmi per due tre giorni e ripartire fate due giorni e porto di prima più forte piuttosto di prima via ragazzi niente grazie ancora a tutti ragazzi io vi saluto e vi do un appuntamento apertissimo intanto già per me le playlist usate nel canale degli amici ricordo che trovate lupo del tubo trovate burneo nota alessandro gamer sono tre ragazzi youtube che portano video a lei di simpatici simulazioni giochi di calcio avventura giochi or short portano un po di tutto fra diciamo che portano un po tutto quindi e l'imbraccio della set da trovarli nella mia lista canale trovate loro indirizzo da lì prende poi dare trovarli qualcuno fa live qualcuno fa veramente video registrati ma è sempre un piacere guardarli io li guardo quando posso li guardo sempre anch'io niente tufomix vi saluta vi lascia questa crona sonora di bio mutant in sottofondo che era un gioco che era gratuito con il plus ultimamente l'ho provato mi sono anche divertito perché così mentre aspettavo che che mi sistemassero un po le cose qua niente a presto ragazzi tufomix vi saluta ciao e mi raccomando non scappate io non sono scappato ciao